eccolo ciao a tutti eccomi qui mi state vedendo in nella fase di registrazione nel prossimo podcast e potete ben immaginare che sono un po curvo perché devo stare vicino a questo microfono purtroppo non ho con me un'asta ma la recupererò nei prossimi giorni anche perché normalmente quando faccio un podcast nessuno mi vede quindi sono appiccicato appiccicato niente volevo dirvi che i lavori sono in corso molto in corso e molto molto leggeri e quindi ciao a tutti di nuovo ma soprattutto buon fine anno visto che ormai ci siamo con gli sgoccioli 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 ciao ciao